ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dentro la baracchetta eccoci qua dentro la baracchetta degli orologi con il buon Giacomo che è il titolare della gioielleria Pasquali Domenici di Viareggio e che è parte ufficiale del canale ci mette a disposizione gli orologi e noi oggi gli mettiamo a disposizione la nostra presenza per parlare degli orologi assieme a Alessandro Borghese perché noi l'abbiamo rapito praticamente sembra di essere l'anonima l'anonima rapimenti quindi il buon piano abbiamo rapito perché è halloween è halloween quindi vogliamo parlare di una tipologia di orologi che insomma si avvicina allo spirito halloween si parla di orologi ovviamente tendenti all'oscuro sicché molto dark ci sembrava un tema abbiamo trovato la scusa dell'alloween per farvi vedere tanti sonorologi uscite in varie epoche diverse che magari nel corso degli anni delle puntate vi abbiamo già anche fatto vedere però cogliamo il pretesto per dimostrarveli e io partirei ovviamente con entry level sia come prodotto che come fascia prezzo che Casio ovviamente ci sono tantissime versioni nella famiglia Casio dove si usano queste resine questi siliconi neri e ovviamente è proprio la base del prodotto G-Shock Pro Trek e tutto quello che è il mondo di questa marca giapponese eccoli qua praticamente sono i due G-Shock di cui quello con la lucina l'avevamo già fatto vedere l'altra volta sono molto simpatici e attraenti però non fanno per me sono dei quarzoni e però se volete indossarli in una nota di alun ecco questi qua sono proprio quelli che potete indossare tranquillamente in una nota di alun adesso facciamo una cosa fatta bene adesso togliamo questo qua dai Piero toglielo poi cosa abbiamo di bello? poi tanto sempre per rimanere ovviamente in Giappone ho preso un bel Citizen un Citizen gigantesco questo qui ovviamente fa parte della rigna Promaster è un orologio da immersione cassa titanio quadrante questo abbiamo una variabile è un bordeaux questo tra l'altro è una limit edition fatto per Godzilla infatti se guardi il fondello ci dovrebbe essere la zampina del mitico Godzilla eh sì c'è proprio la zampina del mitico Godzilla è un orologio stupendo è anche lo spessore della zampina del mitico Godzilla mamma mia molto strong bello assai ma è un eco drive scommetto questo sì eco drive bravo 300 metri professional divers eco drive e c'è la corona a sinistra quartsoon eco drive che è già titanio un'evoluzione sì è cassa titanio oh perfetto le tre caratteristiche di Citizen è un titanio ecco drive va bene è simpatico rimaniamo sempre in Giappone finiamo la carrellata dei giapponesi prendiamo il mitico Seiko questo è veramente nero che ce n'abbiamo veramente qui una carrellata la Seiko spesso e volentieri esce con delle produzioni tutte nere l'italiano in generale non le predilige neanche più di tanto però all'estero sono molto quotate e addirittura ci sono delle collezioni durante l'anno dedicate proprio agli orologi tutti neri ora quello che è in mano è un cassa ceramica e poi abbiamo tutta una serie di casse acciaio trattate pvd ma questo qua è un spring drive si questo è un LX di Seiko è quello che monta il movimento praticamente spring drive e praticamente è il trade union tra il marchio Seiko e il marchio Grand Seiko ma io lo scopro ora che i Seiko normali possono incassare il Carribe si la monta solo la linea LX che è la linea ovviamente più prestigiosa di Seiko e come ti ho detto è la linea che dovrebbe fare da giunzione tra i due marchi e la cassa di cosa hai fatto? la cassa in ceramica in questo caso cassa in ceramica calibro spring drive prezzo sicuramente 5000 euro eccoci fatto ora scusami ma perché uno dovrebbe prendere questo piuttosto che un Grand Seiko? allora perché se vogliamo prendere il Grand Seiko con lo spring drive e una cassa sportiva come questa andiamo a finire intorno dai 7-8 fino ai 10.000 accidenti sicché qui si risparmia forse qualcosina questo qua invece siamo Presage già a un prezzo già più umano no? il Presage ovviamente è una linea abbastanza commerciale il massimo che si può arrivare è con la linea Edge Edge con il Presage Edge e che arriviamo intorno ai 1000 euro però comunque sia la Presage sta sotto quella fascia prezzo va bene questo qua tutto nero e lucido questo qua quello è un pochino più sportivo questo è acciaio PVD quello lì è un pochino più sportivo questa è la classica cassa cottele invece oh eccolo qua sempre con il super calibro 4R30 5 sì che è la base e questo qua c'è anche il bracciale nero tutto PVD questo? tutto PVD compreso il bracciale è un pochino gun metal questo qua ora mi tolgo i guanti perché c'è veramente caldino se vuoi puoi splasticarlo noi lasciamo plasticati perché stanno nelle scatole sì che le lasciamo come arrivano da casa madre però facci vedere togliamo la prima pellicolina e c'è anche una seconda qua io volevo fregare lui la seconda la lasciamo lì eccolo qua praticamente è anche un pacchetto non è uno tanto lucido sì è un nero matt bello sottile questo qua quasi quasi sai cosa si può fare al di là del cartellino che sicuramente mi impedirà però possiamo provare a provarlo al polso nero tutto nero ragazzi sapete che a me gli orologi tutti neri devo ancora digerirli devo ancora imparare ad apprezzarli e piano piano ci arriverò quando sarò grande però per intanto proviamoli tanto c'è il cartellino qua sicuramente allora come vuoi fare dolcetto e scherzetto che orologio ti metti? vi metto l'orologio nero si vuole no? allora l'orologio più nero che ho io boh a lui piace lo scherzetto che scherzetto? devo fare una te lo scherzetto è simpatico dai tutto nero però molto anni 70 bello 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 dai anche un quadrante grigio così che va po' a sfumare questo qua è molto bello questo lì è un patacou bello 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 tuna arni ahia questa è una tiratura limitata deriva ovviamente dal dal Seiko Arni che conoscete tutti era quello che aveva usato Arnold Schwarzenegger nel film l'unica l'unica differenza di questo che ha la cassa tutta acciaio non ha il classica protezione in resina si chiama un pochino più strutturato come un orologio la particolarità che è un pvd full black sia come cassa che bracciale mamma mia che cassa particolare sembra proprio guarda qua con queste viti qua esagonali particolari bello particolare ora qualcuno mi spiega cosa servono tutti questi pulsanti qua no non me lo spiega nessuno si è un analogico digitale i pulsanti servono alla fine per fare regolazioni sulle funzioni aggiuntive che si possono impostare nel riquadrino digitale in basso ha un doppio fuso orario la sveglia il cronometro questo qua è uno di quei classici orologi nei quali il manuale di uso va tenuto e conservato perché ogni tanto è una bella lettina gli va data e poi infine sempre seico si sempre seico oggetto molto particolare di natura limitata un crono bello mamma mia se ne vede pochi cronografi seico la cassa è sempre la stessa nelle varie declinazioni questo era un full black c'ha un calibro 8R c'ha questo 8R si ma l'orologio è particolare perché ha questi pulsantoni a pompa molto sporgenti cronografo automatico ragazzi tac parte si forse dei cronografi dei cronografi di seico quello che ha fatto più successo di tutti era il porco rosso ah beh se ti ricordi ma era il porco rosso quello dedicato sia un fumetto giapponese è un'edizione limitata quello si è un'edizione limitata anche questa è un'edizione limitata ovviamente cambiano un po' i contenuti questo non ha una dedica particolare l'altro è dedicato ovviamente al famoso fumetto giapponese 600 pezzi al mondo o Italia no no al mondo eh a chi piacciono i cronografi seguono non è a parte 6139 degli anni 670 60 non è rinomata per i cronografi perché non è che ha avuto nella gamma tantissimi cronografi alla portata di tutti o mi sbaglio no ma tra l'altro tuttora oggi non è che ne fa moltissimi il catalogo dei cronografi della Seiko è veramente ridotto la modelleria questo qua però esiste anche questo qua con la cassa in acciaio esiste no? si esiste tra l'altro hanno fatto due versioni ultimamente un panda un reverse panda che tra l'altro una è la integratura e una no sicché una è già finita l'altra è possibile ancora averla va bene simpatico simpaticino dai poi direi di uscire dal mondo giapponese che abbiamo fatto vedere tutti i marchi diciamo forse più importanti che rappresentano il mondo nippon e direi di andare in Svizzera a questo punto prendere quei due Tissot sono loro due allora qui abbiamo due particolarità uno è un touch il famoso touch questo è già una delle ultime versioni non lo fanno ancora pensavo non lo facessero più no lo fanno rimane ovviamente ormai è tradizione di Tissot sviluppare questo tipo di prodotto è un prodotto analogico digitale con diverse funzioni all'interno tipo addirittura anche funzioni particolari tipo l'altimetro il barometro il termometro e sono tutte poi dopo la bussola si possono tutte richiamare in maniera tattile toccando sul vetro dell'orologio ah si si quello si e poi già che ci siamo facciamo vedere una novità oh questo qui è un PRX full black ah io stavo cercando di pulire ma c'è no no è proprio il quadrante è un quadrante quadrante in carbonio eccolo lì che bello che è un quadrante è veramente particolare è proprio una novità arrivata da pochissimo si è aggiunta la famiglia PRX che ora comincia ad essere abbastanza consistente come quantità di referenze cassa in carbonio praticamente come il sideral come il modello che avevano fatto cassa in carbonio e quindi praticamente c'è quel cilindro lì c'è la sovrastruttura in carbonio credo e la parte interna in acciaio utilizzata di solito è così questo qua c'è solo col cinturino in gomma al momento c'è solo col cinturino in gomma se la cassa è la stessa di quelli in acciaio poi sarà possibile comprarci cinturini in pelle delle versioni in acciaio ovviamente non vi consiglio di montarci il bracciale perché non esiste attualmente un bracciale scuro come la cassa se che doveste montare quelli in acciaio ma verrebbe fuori però si potrebbe giocare con gli altri cinturini colorati con gli altri cinturini colorati si quello si possono fare diverse la cassa è la stessa che poi è la cassa da 40 su cui è stato sviluppato questo prodotto qui il powermatico 80 con 80 ore di riserva di carica 23 rubini è sempre le solite caratteristiche del tisso prx però riportate in questa configurazione ghost proprio veramente da hello in questo qua potete indossare andare a fare dolcetto scherzetto e vincerete sicuramente poi visto che l'ho qui a portata di mano ho un bellissimo newport newport di erbelen erbelen eccolo qua io l'ho fatta la recensione di quello normale anche questo qua è in cassa carbonio cassa carbonio particolare l'attacco van clift attacco van clift per chi non lo sa è questo attacchino che poi dopo fissato dalle viti laterali rende la cassa molto leggera perché alla fine la parte delle anze che vanno ad agganciarsi sul cinturino sono molto strette sulla cassa e danno questa forma molto particolare all'orologio è solito sellite sv200 però ho fatto la recensione anche io coronavite e ci è piaciuto tanto ora questa versione qua così carboniosa d'altronde c'è tutta una serie di orologi quasi tutte le case fanno dei modelli neri o che sia carbonio o che sia ceramico o ciaio pvd le fanno neri infatti abbiamo colto l'occasione per farvi vedere perché ha una particolarità a volte rimangono nascosti un pochino all'interno dei cataloghi perché non sono un prodotto magari di punta o primario non sviluppano i numeri dell'orologeria tradizionale in acciaio però come vedete tutte le marche all'interno del proprio catalogo hanno uno o più referenze o addirittura più referenze all'interno di varie linee di prodotto dedicate all'orologio tutto nero comunque sia con la cassa nera tra l'altro la cassa nera permette di sviluppare diversi materiali partendo dall'acciaio pvd che forse oggi è quello più semplice fino come vediamo alle casse in carbonio casse in ceramica ne abbiamo già vista una poi ora ve ne farò vedere altre le resine e poi andiamo avanti a scoprire questo mondo le resine come il famoso icon tide che erano qui guarda l'ho preso così ci sta un bello zodiac con cassa brunita questa non è proprio un nero io vedo nero no è un brunito da più sul grigio guardiamo qua si un grigio scurissimo un grigio scurissimo un bel grigio topo anche il topo con Halloween ci dice un bel tapponotto alla griglia alla griglia il classico è un borghese lui pensa alla griglia certo sono borghese zodiac super sea wolf che però c'è anche qualche tocchetto di azzurro qua che lo rende un pochino più differente dagli altri è questo qua grigio scuro brunito il calibro era STP 1-11 o 2-11 a seconda bisogna guardare perché hanno cominciato a cambiarli sempre delle STP sono perché zodiac fa parte del gruppo fossil quindi i calibri quelli sono e la iera in cosa sarà è lucida è zaffero secondo me la iera secondo me è zaffero si ha il vetrino in zaffero che poi va a coprire la parte colorata sotto adesso qua c'è un bel quadrante stile meteorite stile meteorite e poi secondo me questo bordino bluette che gira lungo il reo interno secondo me è veramente interessante eh si ecco l'ho fatto ve lo faccio vedere per bene senza bella bella saia si poi particolarità gruppo Gav gruppo Ardito anche loro l'ha fatto non lo sapevo io ce l'hanno tutto nero questo addirittura ha una particolarità aggiuntiva che ora vi spiego è praticamente una cassa in bronzo trattata sopra questo trattamento è un trattamento molto leggero che portandolo tende a sciuparsi perché l'effetto che voluto da cassa madre è che piano piano faccia affiorare la bronzatura sottostante cioè praticamente è nero già calcolato che si consumerà e poi lascerà uscire si consumerà in una maniera tipo graffiatura in modo che faccia affiorare il bronzo e dia proprio quell'aspetto di vissuto di vintage al prodotto ora la mia domanda sai qual è se ne avranno sicuramente fatto una prova però che non poi dopo non possa sembrare più che vintage proprio usurato quasi vecchio capito ma l'obiettivo è quello deve ovviamente sciuparsi in maniera controllata sarebbe da vedere come viene se c'è qualche volontario che si vuole offrire però l'orologio è veramente bello l'orologio tra l'altro rende io avrei fatto anche proprio una cassa in pvd così opaca perché l'orologio è stupendo probabilmente questo opaco qua riesce ad essere così opaco perché sotto c'è il bronzo capito che assorbe molto si vede in certi punti anche dei riflessi bronzati se fai così guarda là giù si vede guarda si vede bello ho capito come viene adesso vengono delle ombreggiature di bronzo logico che la particolarità è che nelle parti spigolose sopra cioè quelle più esposte sicuramente perderà prima la colorazione sono le parti che sono soggette ad essere toccate comunque sia prima delle altre e sicché in queste spigolature affiorerà la bronzatura secondo me verrà veramente interessante come prodotto carino mi è piaciuto per ora è promosso poi marchio Hamilton questi qui ho fatto ho fatto io una cernica di prodotto ovviamente che che avevo a portata di mano cominciamo da quello che piace tanto a mio amico Piero il PSAR il PSAR ovviamente è il rifacimento di un vecchio orologio nasce in acciaio e dorato e poi dopo si è sviluppato in nero la prima versione che aveva i numerini verdi era stata dedicata a Matrix se ti ricordi poi dopo successivamente perché ha avuto successo non tutti sono riusciti a comprare quella versione lì hanno fatto la solita versione pvd nero però con andando a modificare i led interni e mettendo il rosso questo qui nello specifico è quello con il rosso c'è anche il fondello particolare ecco un atomo cosa è un atomo ho disegnato non lo so dai te Piero avevi quello in acciaio si l'ho venduto bravo è durato quanto è un gatto sulla regna ma hai detto vendilo 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 e per comprarti un orologio per comprarti uno nero però mi sono pentito per comprarti quelli con i granaggi dai su si ho orologi molto più belli ora però manca va bene sempre di Hamilton abbiamo poi il Venturone il Venturone anche se qua è quarzo no no questo è un automatico semischeletrato è molto particolare è un Ventura XL ricordiamo che i Ventura sono gli orologi di Elvis che negli anni sono stati fatti anche neri tra l'altro ne ho forse qualcuno ancora in stock esiste anche ancora in catalogo tutto nero la versione quella di Elvis è un pochino più piccola questa è l'XL ne ho fatto un saltino nel futuro è lo stesso su cui poi dopo è stato sviluppato anche il Dune sì l'orologio veramente interessante è una parte proprio una famiglia intera del catalogo Hamilton ma dentro c'è il classico H10 il calibro rotondo dentro un orologio triangolare guarda che effetto che fa d'altronde non si può certo pretendere che facciano un calibro triangolare che io sappia non esistono eccolo qua il quadrante semischeletrato come si suol dire che fa una trama particolarmente tribale sembrano dei tribali questi segni qua oddio non è un orologio che fa tanto per me però la sfera dei secondi è rossa sportivissima puoi vedere come si muove questo orologio scuocilo ah sì funzionano bene i nostri orologi da lì ho il caricare carichiamo a mano e guardiamo come gira la lancetta ci piace sì volevo metterlo alle 10 10 ma qua è un casino capire quali sono le 10 10 quali sono le 10 10 ma fai come faresti ma è cambiata anche l'ora quindi metterlo 10 ok e 10 guardala guardala ecco 10 e 10 beh si legge ascolta un po' secondo fammi un attimo provare era ora che lo dicessi perché perché è bello quello lì ci hanno fatto anche il film che è bellissimo ce ne sono così tante di referenze di ventura che io non ci capisco niente sono tante qual è la più classica non lo so la più classica è quella la misura tradizionale con la cassa acciaio non ce la fai infilarlo lo so è anziano la più classica potrebbe essere addirittura quella al quarzo perché insomma la versione classica è al quarzo il vero ventura è al quarzo anzi il primo il primo modello era elettrico si e poi dopo è stato trasformato in quarzo per questioni di semplicità ma va bene potrebbe in una versione un po' più normale potrebbe e poi siccome ti ho visto in difficoltà nella lettura ti ho preso due kaki kaki field sono due versioni cassa titanio e bracciale titanio però trattati i pvd full black allora questo qua da quante da 40 42 42 38 38 questo qua è veramente carino si questo è bello si legge bene il numero ben visibile un vero orologio da vietnam questo qua non l'ho mai visto questo qua è tutto in titanio non è tantissimo che è uscito a un'aviazione abbastanza recente ovviamente l'upgrade è stato il bracciale l'upgrade è stato il bracciale si guarda qua questo qua è veramente la cosa più opaca è un buco nero come dice cicciolina è un buco nero assorbe la luce incredibilmente guarda qua ho provato il pozzo mi devi anche l'altra l'altra pellicolina per cortesia intanto vi faccio vedere quello da 42 che insomma è fatto così è da 42 dai 42 è un po' grossino però c'è il suo cinturino in cordura è simpatico anche quello da 42 piccato si legge bene guarda qui e quindi mi provo questo qua adesso è tutto nero così è bello questi bracciali qua giganti abbondano di maglie bello è veramente bello guarda che effetto che fa l'opaco e l'alancetta dei secondi c'è la puntata gialla o arancione 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 zucca quanto viene questo qua questo qui mille 1325 ma i 25 ce li leviamo sì se state bravi solo se stiamo bravi è bello si legge bene è classico non c'è la data e questo ci piace tanto bello sai dai quando ti sta bene bello mi piace sì poi prossimo set di orologi marchio Mido due orologi allora io questo qua non è quello che c'è allora questo questo è un orologio diciamo che negli ultimi anni Mido si è distinta per gli orologi Diver come stile nello specifico la famiglia Ocean Star prima di questo ovviamente riconoscimento da parte del pubblico sulla famiglia Ocean Star la Multifort è quella che la faceva da padrona e questo qui era l'orologio più rappresentativo di Mido perché perché riporta pari pari i colori del marchio che sono il nero e l'arancione che sono anche i colori di Halloween di Halloween sì la zucca il nero l'oscurità sì che insomma lo rappresenta perfettamente tra l'altro è un bellissimo orologio perché viene venduto in una confezione speciale con un altro cinturino intercambiabile ma ultimamente non c'avevi anche un usato di questi qua no avevo era un Ocean Star tutto nero che è stato venduto bello questo qua il classico calibro 77-50 diciamo così che in realtà poi è un altro nome sotto in casa Mido con Day-Date è simpatico per la mia verità mi sa che è anche elevato in questi qua di solito sono 100 metri sì è un 100 metri un crono 100 metri simpaticone un po' grosso sarà 45 no? è 44 44 e quell'altro invece è questo qua mi sa che c'è fatto anche la recensione questo è bellino sì questo mi sembra che tu l'abbia recensito il Commander la particolarità questo bracciale maglia Milano integrato con la cassa che lo rende molto particolare a me questa linea qui mi è sempre piaciuta molto di loro sono gli orologi che prediligo di Mido sono anche quelli ovviamente che riscontano meno successo sul mercato italiano a me mi fanno impazzire le trovo molto distintivi del marchio meno sicuramente della famiglia Ocean Star che mi ricordano un pochino gli orologi diver in generale apri di 6 cicciolini lasciamo così perché io con le chiusure queste qua è veramente un orologio di quelli che fanno sembrare eleganti anche le persone come me che non lo sono guarda qua va digerito il fatto che sia completamente senza praticamente un circolo un tondo sul polso e con il braciale nero però va anche a fare un complemento d'arredo diciamo un complemento di moda bello blu con il blu il quadrante blu il quadrante blu e lo vedo da qua blu e nero blu scuro blu degradé particolarissimo allora ora vorrei dedicare uno spazietto a un marchio che del nero ne ha fatto una sua prerogativa e è Rado Rado nasce storicamente con le ceramiche nere che diciamo che è dagli anni 80 che sviluppa le ceramiche nere le ha sviluppate ovviamente in tutte le tipologie su tutte le modellerie rotonde quadrate rettangolari sia bracciali che casse ma soprattutto ovviamente oggi sviluppa le ceramiche anche in tutti i colori possibili immaginabili perché la loro tecnologia è in continua evoluzione quello che ha in mano è un true fill line è un orologio al quarzo di quelli che piacciono a te anche sottile un motivo buono c'è perché allo spessore di una moneta questa famiglia qui nello specifico viene sviluppata in due declinazioni di linea la true fill line che è la versione al quarzo più sottile e la true che è quella normale invece automatica praticamente lo scopo è quello di fare la casa alta come bracciale che ti fa formare un'unica si si tra l'altro questi qui ne esiste ovviamente tantissimi modelli in tutte le declinazioni questo nello specifico una ceramica lucida la ceramica loro la sviluppano anche in tantissime versioni satinata su tantissimi modelli come ad esempio questo che ho in mano scusaci questo qua c'è il bracciale in ceramica e la chiusura in titanio per chiudere il cerchio anziché farlo in acciaio sempre per mantenere la leggerezza in titanio no c'è un altro motivo e quale? perché tutto il prodotto rado è certificato anallergico e il titanio fa parte dei materiali che non danno allergie a differenza a volte degli acciai che possono dare noia questo non sapevo sì sia le ceramiche che il titanio sono tutti materiali anallergici come in alcuni modelli alcune resine che usano loro sui fondelli su altre parti ovviamente dell'orologio per esempio se prendiamo alcune linee hanno l'anima che tiene il bracciale sotto lo scheletro diciamo del bracciale su cui poi vengono applicati sopra le faccette in ceramica sono i materiali sono i resine antiallergiche questo ovviamente è una linea famosa questo è lo sviluppo di una linea famosa è la Capitan Cook è la Capitan Cook sì la Capitan Cook ovviamente nella versione full ceramica questa è una tiratura limitata addirittura con quadrante scheletrato e le dorature molto particolari forse l'abbiamo già fatto vedere anche in qualche video e la ceramica è una ceramica nera matt si vede è un po' è un po' opaco opaco ricordiamo che tra i tanti materiali che abbiamo visto neri a differenza dell'acciaio non si graffia tra l'altro è un materiale se fatto bene con tutti i criteri molto costoso perché c'è tanto scarto di produzione ricordiamo che queste non sono mattonelle cioè una ceramica non è quella che usiamo nel vaso di capo le tolleranze sono calcolate in micron sicché se la cassa non è perfetta il suo risultato finale viene scartata anche perché poi dopo va alloggiato il vetro la lunetta le corone i pulsanti i fondelli e tutto deve essere come proporzioni perfetto si questo qua è il classico roggio che esula dai miei gusti il quadrante scheletrato non fa per me però è fuori dal dubbio che la qualità costruttiva sia elevata basta guardare l'inserto ieri che è in ceramica però è in ceramica granulosa guarda qua qui ormai loro devo dire la rado ha raggiunto una capacità di produzione su questi materiali incredibile anche il logo sulla corona ha la stessa granulosità bravo bel lavoro costa tanto e poi ecco infine un bel atom è quello che ho recensito anch'io e questo mi piace proprio tanto qui manteniamo la solita cassa in ceramica con la particolarità del cinturino in gomma si è preferito per renderlo un pochino più leggero un pochino più portabile mettere un cinturino in gomma tra l'altro un cinturino in gomma fatto molto bene che si integra perfettamente con la cassa secondo me è un prodotto eccezionale è un rettangolare ma automatico che è un prodotto veramente bello questo quadrante del gradere che praticamente va a prendere nei bordi esattamente il colore che è tutto intorno quindi proprio veramente stilisticamente parlando la continuità della cassa e del bracciale va a finire sul quadrante su questo non c'è nulla da dire data ad ore 6 che lo rende simmetrico che quando stiamo parlando di un orologio rettangolare la simmetria ha ancora più senso perché è verticale così e la sua ancora è a ore 12 lassù che si muove si parte tre colori questo è il degradé in blu ti hai fatto il rosso che è un rosso che dà un po' sul color mattone e poi dopo il verde tre colori tutti belli noi all'interno del negozio non ne teniamo mai tutti e tre tendiamo a ciclare i colori per farli vedere sempre tutti si si questo qua è proprio bello mi piace tanto questo qua si almeno non è schietrato si vede è bello sobrio è serio come me come me si vede poi ho selezionato un bel oris non ha tantissime casse nere però ho trovato questo questo tra l'altro è l'orologio più tecnico di casa oris perché è un altimetro un altimetro funzionale analogico con movimento automatico un orologio veramente particolare cassa in carbonio dall'altro ho visto anche in fiera come le fanno partono da tantissimi strati di carbonio messi una sopra l'altro poi vengono pressati ad alta pressione vengono compattati a quel punto lì quando c'è questo cubetto compattato di carbonio viene fresato per arrivare alla forma finale questo è molto particolare questo orologio qua perché l'altimetro meccanico io l'ho visto su oris e poi l'ho visto sul favre liuba altrimenti da nessun altra parte ho visto un altimetro meccanico due bellissime corone di cui una è quella per l'altimetro vedete hanno una membrana dentro che ovviamente si comprime a seconda della pressione e fa spostare la lancetta la sua particolarità la cassa in carbonio è veramente bella non è nemmeno tanto nera è quasi un grigio si è quasi un grigio questo qui che ha un po' la colorazione se vediamo anche l'herbe len che abbiamo fatto vedere prima ha questi riflessi dipende dalle vennature come vengono più fuori si col suo cinturino qua verde militare che è adattissimo si perché poi ci sono anche modi di fare il carbonio c'è una fusione unica c'è questo caso qui che è quella strati che ecco esistono diverse tipologie ovviamente questa giornata qui di Halloween ci permette ovviamente di approfondire si quelli che magari se no non vanno per la maggiore rimangono sempre un po' indietro perché si essendo un orologio tecnico per il vero amatore che vuole una funzione particolare è un orologio che costa anche svariate migliaia di euro 6300 6300 euro ci vuole proprio un appassionato di questa tipologia di orologio ma l'altimetro meccanico è tanta roba ripeto tanta roba poi vi faccio vedere un orologio che non è non fa più parte del catalogo attuale brightling è un avenger ah si si questo è una specifica avenger sea wolf night mission missione notturna senti che nome tra l'altro vi do un dettaglio questa è la versione vecchia come la vedete molto più spigolosa a me piaceva tanto nelle nuove versioni nelle nuove casse avenger sono usciti in questi giorni se andate sul sito ufficiale bright in giallo potete vedere noi stiamo ancora aspettando il prodotto è uscita la nuova versione sulla nuova cassa sempre night mission cioè full black tutta nera tra l'altro nello specifico questa aveva la cassa in in dlc no scusa titanium titanium pvd titanium pvd titanium pvd scusate la versione precedente invece aveva la dlc che era una lega di ceramica e non è nemmeno leggerissimo immagino se lo avessero fatto in acciaio cosa sarebbe successo un patacon sarebbe diventato patacon come tutti i bright ring e il certificato cronometro lì lo vediamo sì sì lo carichiamo un attimino per vedere in funzione il cronografo che ci piace tanto a quello che si muove lo stoppiamo e lo azzeriamo e il calibro qua dentro quale sarà in ogni caso la configurazione è quella del 77-50 con i tre contatori messi così 12-6 e in piccoli secondi a ore 9 è molto militare come orologio si vede dai numeri fatti a stencil si dice con il divisi a metà come se fossero dipinti utilizzando uno stencil appunto simpatico però ripeto è pesante per essere titanio ragazzi sì ma neanche tanto dai alzo perché sì ma se lo fai in acciaio con lì ti spacca il punto ma non è in acciaio esisteva anche in acciaio con l'accia lato infatti era un macigno ma per quello che dico il titanio ha senso in questi casi qua quando in acciaio diventerebbe pesantissimo allora lo fai in titanio e lo dileggerisci ma quelli che sono sottilissimi in titanio che non senti niente bravo 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 voto voto dieci devi dire dieci tu devi guadagnare dieci tu devi ancora guadagnare non l'hai dato ancora a nessuno il dieci tu quindi neanche io poi però se vinci ti diamo il premio i 5.000 euro che ci fai che ci fai ci cambi i fuochi della cucina io sto cuocendo guarda che guarda che cosa guarda che cosa ti do due chicche questi due analogi qua valgono tutta tutta la puntata potete ora potete anche dimenticare tutto quello che avete visto e sono non lo dir così che poi la gente non compra allora dovete prima comprare tutti questi una volta che avete comprato tutti questi arrivate a questi due Zenith sono due Zenith nello specifico uno è un DeFi Skyline full ceramica ovviamente full black perché Halloween è veramente particolare le caratteristiche sono tutte quelle del DeFi classico sicché ovviamente con il movimento a 38.000 alternanze con i secondi ovviamente che si muove col contatore dei secondi a 10 secondi che sembra impazzito l'orologio è veramente bello ovviamente nella ceramica che lo rende particolarissimo è anche un pochino più costoso solito discorso che abbiamo fatto con Rado la ceramica è un materiale costoso che ha tanto scatto di produzione sicché per produrre orologi a questi livelli dove tutto deve essere perfetto il costo è molto alto mamma mia questo qua mi sa che l'avevo già provato una volta perché o quello bianco esiste anche bianco esisteva anche bianco non sullo skyline però lo skyline solo casse casse ceramica e cassa ceramica o acciaio guarda che bello pur essendo un 42 mm sto qua mi sembra o 41 però sta bene al polso sta bene sta bene e invece l'altro è un revival l'altro è un defy revival non è un nero è un grigio perché è un titanio spazzolato è un full titanio spazzolato tra l'altro è la cassa del modello vecchio che veniva chiamata cassaforte cassaforte del tempo cassaforte del tempo con questi bellissimi indici qua che sono in rilievo sul quadrante che sono a fine del mondolo piano ma sto qua non l'hai pulito mica bene eh cosa non lo so oh eccolo qua c'ha le mani unte o c'ha soffritto ah 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 bravo borghese allora insomma anche sto qua c'ha il calibro questo qua ha il calibro se non mi sbaglio il calibro Elite che è quello bello sottile che è da da decenni che utilizza Zenith nei suoi orologi più di classe più di classe a differenza del del primo anno viaggia 28.800 alternanze orari e in questo caso abbiamo anche qua la cronavite e che questo qua lo proviamo un attimino al polso merita questo qua è leggero leggero però sì stessa cassa in titano di titanio spazzolato su cui viene fatto anche la versione revival che tra l'altro è stata fatta anche con lo stesso bracciale così è forato in titanio questo ci siamo proprio pur non essendo nero quindi che è quello meno adatto per andare in giro ad Halloween è questo secondo me è quello che ha vinto la puntata per me mi piace veramente tanto grigio scuro così qua come opacco la cerniera dentro è come che di solito Zenith a volte ci fa gli scherzetti con la cerniera no questa è fatta come Dio comanda sì spessa spessa è il giusto ci siamo è tutta titanio anche quella è stata mantenuta il solito materiale bello assai questo e poi chiudiamo con due orologi stupendi che tra l'altro è recensito anche da poco si qui facciamo vedere due varianti cassa ceramica nera però con Dial colorato nello specifico il crono in verde e la versione calendario completo fasi luna in blu mi dispiace che l'ho dovuto consegnare al cliente che l'orlogio era già un po' in ritardo avevo anche la versione full ceramica che forse sarebbe stata più adatta alla puntata di oggi però ovviamente il cliente smaniava per averlo sicché abbiamo fatto una spedizione veloce diciamo che questa qui è la vera novità del 2024 per quanto riguarda il mondo Blampen è stata fatta tutta un'espansione di linea di famiglia su Fifty Faton Batiscaff che sono queste modellerie qui sicché una serie di crono di calendari completi fasi luna e la versione solo tempo con diverse declinazioni di colore di quadrante ma soprattutto con la possibilità di montarci il bracciale in ceramica bracciale che come abbiamo già detto precedentemente per gli altri marchi molto costoso che poi ovviamente per quanto riguarda il marchio Blampen sendo un marchio di manifattura del segmento lusso cresce ancora di più a livello di fascia prezzo però per chi ha i spiccioletti in tasca vale la pena acquistarlo tanta roba tutti e due con la cassa in ceramica nera calibri di manifattura da ricordare che la massa oscillante in oro bianco però viene poi ricoperta di platino per farla sembrare e sabbiata per farla sembrare a meno appariscente capito cioè tengono anche un passo indietro pur di non essere vistosi laddove qualcuno magari metterebbe anche i brillanti sulla massa oscillante per fare il fighissimo chiaramente ho recensito questo qua verde che è spettacolare e questo qua blu invece non l'ho mai avuto per le mani perché questo qua è un calendario veramente il calendario completo cos'è mese giorno e data e le fasi e poi tra l'altro ecco per gli amanti del verde ovviamente esiste la stessa versione con la base in verde va bene cucito a mano va bene come si dice Piero va bene bravo sei promosso allora ragazzi io qua direi che abbiamo finito con il giusto è giusto dire che io non sono Alessandro Borghese sono l'amico Piero no perché non vorrei che poi si confondano è visto da Pasquale e anche da Borghese Alessandro è il tuo follower magari poi già giusto quindi ciao Alessandro spero di rivederti presto io sono l'amico Piero non sono Alessandro Borghese ragazzi siamo messi così oggi è Halloween quindi bisogna fare un po' di festa un po' di festa macabra io vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sono piaciuti gli orologi neri che insomma capisco che sono abbastanza eterogenei ce n'è per tutti i gusti quarzi di gomma di ceramica di titanio è un mischione di orologi tra tutti questi uno o due che vi piacciono sicuramente ci sono dipende dai gusti per me è vinto lo Zenith The Fire Revival questo qua in titanio grigio opaco per il resto c'è Mastercard allora vi ricordo gli appuntamenti fissi non mi resta quindi che ricordarveli che sono come sempre quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube love 3 2 1 brutti pezzi di merda se li volete i borghese dovete pagare 3 2 2 3